Ponte Vigo d'Arzere, la zona più a nord del comune di Padova. Stasera la nostra rubrica La voce dei quartieri arriva qui, in un rione che si è sviluppato lungo la via consolare Aurelia Copta, conoscendo poi nel secondo dopoguerra uno sviluppo quasi paragonabile per numeri e dimensioni a quello di una cittadina autonoma. Alla vigilia delle elezioni, stanchi delle solite passerelle dei candidati sindaco, chiediamo di passare dalle parole ai fatti dando risposte concrete alle richieste dei cittadini. C'è qualche cosa che qua nel quartiere manca che può preoccupare i residenti? E allora iniziamo a passare in rassegna i problemi di questa zona di Padova dove come spesso avviene la prima preoccupazione è la sicurezza. Noi commercianti chiediamo più sicurezza sicuramente in modo da poter aprire la mattina per quanto mi riguarda alle sei e quindi in modo tranquillo senza doverci chiudere dentro o fare cose strane. Mi hanno rubato un furgone. Qui? Sì, a Ponte Godazzo dove lavoro. Dopo sono venuto a rubare anche a casa sua di mia figlia, a Ponte Godazzo. Il quartiere patisce un grave problema legato alla viabilità. Qui passano troppe automobili. E sulla questione non mancano le proposte al nuovo sindaco. Raddoppiare il ponte della ferrovia, portare il tram a Vigo d'Arzo in modo da decongestionare questa strada. Strade trafficate che avrebbero anche bisogno di lavori di ordinaria e manutenzione. Sono messi molto male e sono da rifare tutti i marciapiedi del quartiere.